Buongiorno a tutti voi, oggi andiamo a fare una salsa, però prima di andare a vedere gli ingredienti vi devo chiedere di iscrivervi al mio canale Youtube e di questo ve ne sarò grato. La salsa che andremo a fare è la salsa cruda che è una specialità dell'Emilia Romagna, in special modo una specialità modenese, gli ingredienti sono due uova sode, tre tuorli di uovo, due cucchiai di capper sotto aceto, due cucchiai di aceto balsamico, un po' di sale, quindi andremo prima di tutto a montare un po' i tuorli di uovo. Poi aggiungeremo le uova trittate finemente, i capperi trittati finemente, due cucchiai di aceto balsamico e quindi la salsa sarà pronta. Bene, questo è il risultato. Devo dire che prima mi sono dimenticato di mettere anche dell'olio, però bisogna stare molto attenti con l'olio, che non diventi troppo liquida. Poi questa salsa qui va benissimo sia per carne sia per pesce, però ci sono due varianti, la prima variante è quella di mettere dentro della senape per farla un po' piccante e la seconda variante è quella di metterci dentro della giardiniera sotto aceto tritata finemente. Voi se volete farla, fate come volete. Comunque il sapore è ottimo, il profumo anche da accompagnare della carne, sia a lesso che i ferri o arrosti e o anche del pesce. Detto questo, vi auguro buon appetito e ancora una volta vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie di tutto.